Ciao ragazzi siamo qua, mi hanno partito a ranked, sono in mid con Nidalee e vediamo che comincerà, abbiamo una Sivana jungle, una Jinx e un Dark Team ha fatto una cosa strana e ha installato subito quindi sapremo come andrà e ha installato subito con un po' di Team, perché Team da quello che vedo di loro non so chi sarà loro jungle perché non sono altre molte ma può essere che non so i due jungle, quindi vedremo ragazzi se ci sarà qualcuno oppure no adesso siamo qua, lei parte, beh Sivana parte del rosso come sempre ok io ci metto due tipi di power, ho le Masteries, le 3109, questo che mi ricordo e poi ho altre non puoi mettermi in gabbia evocatore ragazzi ho solo un minion da scherzare ok trovo cellali ok vabbè ninja di ninja non ci sono fisiche molto potente grazie al suo Q da distante Questa è abbastanza bene, dobbiamo armare meglio. Questa è abbastanza bene. Ok, il gioco ci va restata qua, da ricomprensione di vita, non è molta ma ho pensato per quel poca vita che devo dare. Ok, dovrò controllare molto Micho Micho, che sarebbe Rengard. Questa è molto potente. Io ho avuto un'altra volta. Questa è molto potente. Questa è un problema. Io non so lasciare. Io non so lasciare. Non so se anche l'altro non lo so. Non so se anche l'altro non lo so. Non so se anche l'altro non lo so. Ok, potenzialmente la Q. Il Q è molto potente. Si lanciate dal distante. Potremmo citare un minimo. Tra poco. Quindi... Speriamo. Sennò... Lei è... Spreca troppo male. E' così. Però... Sennò... Con... Le dò tutto il panno. Lei si fa le sue cose. Mi fa... Un... Muccio di danno. Quindi... Sennò... 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 Un po' dietro. Sennò... 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 Flash. La natura selvaggia... Non conosce paura. Un go-back. Devi difondere. Un go-back. Subito... Comprarsi... Il jet principale... Un go-back. 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 Subito... Un go-back. 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 guarda un attimo, guarda il bush ragazzi ok devo guardarli guarda intanto, questa Sivana mi piace molto ragazzi spero di vincere anche la lei ha l'ultimo vedetelo quasi sempre l'ultimo vedete vedete vabbè vabbè lei è andata a prendersi il blu vabbè 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 come pensavo ragazzi come si aspettava vabbè vedete quanti danni mi faccio dopo continuo con il gg a fare lei dopo con quel blu diventa mio continuiamo un po' l'acqua le squadre mi servono per sopravvivere io posso questo lo stesso lo stesso ho avuto quanti danni il paziente da mettere tanto per sembrare sempre distante devo trovare un momento giusto che lei è isolata con questo troppo 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 questo è il resto Questa è la torta di bambini cerca di un gioco come solo per fare un gioco Questa è la torta di bambini nel gioco come solo va a fare un gioco Questa è buona per me Non l'ho presa No non l'ho presa Non mi ha fatto quei danni Più distante è il nemico che la lancia da più distante Più danni mi faccio questa bella Mettiamo dove per l'altra Dopo metto anche quell'altra E poi Io immagino da la parte Pianto io vivevo abbastanza ragazzi La lancia o l'artiglio ti ucciderà Ok adesso Andai con Tova l'arma Qui in me Ok Questo non è molto male E' molto male E' molto male E' molto male E' tutto da vedere E' tutto da vedere Questa partita è tutto da vedere Ok Ok Opla Paretiamocì Nottiamoci Mettiamo la guarda Alla di là SS Doppia uccisione Ma Doppia uccisione Ma Doppia uccisione Questa un bel cazzo che si messo davanti adesso davanti a tutti adesso mi sono davanti il mio incontro ho sbagliato lei io ho potuto farlo ma niente anche lei sta sempre via non ci non ci non ci non ci qui qui il mio dovere un po' troppo da lì ecco ci vedo se arriva da quella via oppure no vabbè non ci cazzo sono riuscito a scappare via usato anche tutti vabbè 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 ragazzi non ci ho fatto anche una kill con questa piccola cosa con degli assist vabbè molto bene prendiamoci le scarpette no vabbè non riesco a prendere le scarpette e andiamo per la 10 bain e come sapete le prossime tappi con le 10 bain le ha più danni qua c'è la piccolina guardate quanto le ho fatto con una trappola eccola 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 come al solito mettiamo gli avversi brutti danni ok 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 non c'è non c'è come a me ok ok la presa la natura selvaggia non conosce paura andam come 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 scuola all'usa la ma a ver ragazzi Ok, ritorniamo in good lane. Per cui un po' è molto da distante. Adesso, quando vi trasformate con tutti le onze, le mozze sono tutte gratis. E poi abbiamo aumentato la velocità di nuovo in tutto. Tutto buono. E neanche usato... Adipose Centrion, che in formazione tigre dà abbastanza di danni. Ok, ho distrutto qua la torre. Sarò vicino quindi, ragazzi, come vi ho detto, se sono vicino non l'hai contata. Ok. 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 Ok, ragazzi. Ok. Ok. C'è un po' di più. Io sono andato sull'aldicari E' quel che fa più danni Ok Mi guiderò io Oh no Vabbè Prendiamo un po' Prendiamo un gineone, qui sono per catteggio Prendiamo un gineone Ok Non serve a niente in teamfight Per questo Io dico questo Non serve a niente in teamfight Ma Nel primo teamfight Leva un botto di danno Ok Facciamo un po' di cose Siamo qua In un botto Passiva in poche parole Quando entriamo dentro un bush Ci diamo più velocità Che panna E' tutto in botto era un panno Ok Ok Abbiamo l'aldicibane Ragazzi Adesso Facciamo un po' di danni Noi sono tutti miser Era anche l'engar che è venuto L'avevo visto da qua Un pezzo di qualcuno Ok Prendiamo Due biscotti Sempre bene fanno Prendiamo Prendiamo Adesso io Il prossimo è tabellato 50 più 157 E' un colpo Un po' di niente Non ciò pare Conta Non so quanto abilità Povero il 30% Mi sembra Sobre il 30% A quest'arma E' un colpo Quindi Come avete capito E' un colpo 30% Facciamo i danni I sporchi danni In questo Abbiamo fatto i sporchi danni E abbiamo fatto i sporchi danni E abbiamo fatto i sporchi danni Intanto Non so perché Vuel Rengar ci ha Saltato addosso Ma non Ma siamo OP 100 Ah su di me Siamo quello che aveva di più In In solitario Sono quello che fa I miei I sporchi danni Quindi Stiamo andando molto Inoltre Ok Molto bene Molto bene Stiamo andando molto benissimo Potremmi siamoci ancora Di troppo non saranno granché Stiamo riuscendo a Fare I peggio Così In modo Guardate quanto Devo questo Bello Cazzo Cazzo Ma che Vabbè Facciamoci Magic Penetra Su qui Con la Q One shot Facciamo un po' Aspetta Vediamo così Abbiamo anche più velocità Molto meglio Ok Come Su 2 di cemcio Fate Qualcosa Ehm Rabazzone Ehm Rabazzone Facciamoci Rabazzone Vedete Non ho un granché di cose Questa Faccio un po' di danno Perché se guardate lì Il suo danno arriva fino a Cp.75 Più 341 Lascia che ti mostri la via Ehm Che non ce l'ho conto a prendere Ma Si prende oltre A quello che deve Il primo Vorrebbe farsi Il Drago Da solo Ok ragazzi Non so come vuole Ma Stando con la torre A parte Oltre In particolare Perché Le abbiamo Un tasso In un caso Che In un caso In un caso E quindi In un caso Il primo in un caso Ora In un caso Depp Depp Ok Vabbè ragazzi, non ci siamo riusciti ma vabbè Hai visto il mio potere per farti questo in realtà Ok ragazzi continuiamo 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 Un amico è stato ucciso Non è difficile Non è difficile Un po' guarda Un po' guarda Un po' guarda Ah, molto po' guarda Non è difficile Un po' guarda Fu non lo met tolerate Non è difficile Un po' guarda Come si può stre capire Elimlin Anche se mi è stato troppo potente, non ci sono troppo potente, o d'arte. Per cui si può usare anche su contro le torri, quindi è buonissimo. Come vi ho detto, nei monstri sono gratis quando ci sono troppo potente. Quindi io posso fare il gioco da Q, non so che i miei piccoli assist. andiamo a attaccare qua Do attack speed, si faccio la cura e dà attack speed Quindi ragazzi, come potete vedere siamo primi Ecco qua ragazzi, abbiamo avuto questa partita, ero in mid Non ho giocato molto bene con i mid, ma so anche giocare meglio Quindi so giocare a palla, so giocare meglio Spero che avevo una Vianna, speravo qualcuno più fatica contro un Eni Poi contro un Ryze, oppure anche contro Gradus Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video Vi lasciate un po' il censo Scrivete un commento E bye bye, ciao ciao